Se voi diventaste il segretario personale di Tolstoi, sarebbe un vero dono del cielo. Che gioia avervi qui! Starnutisco quando sono nervoso. Credo che il benessere ci corrompa tutti. È la chiave di volta del movimento. Oddio, io so tutto del movimento. Voglio che teniate un diario. Tutto ciò che dice la Contessa. La sopravvivenza del nostro movimento dipende da questo. Non resterò a guardare mentre rubano l'eridità dei miei figli. Ho un piccolo dono per voi, è un diario. Scrivete tutto quello che vedete. Quello che vedete. Mi state nascondendo qualcosa. Voi di te? Tolstoi disapprova le relazioni sessuali, questo lo so. Ma per me non è un problema, sono vegetariano. Voglio dire cerbe. Alla Contessa interessa solo trarre profitto dal vostro lavoro. Come usate? Mio Dio! State tutti tramando contro di me, nella mia casa! Hanno vissuto una vita insieme, perché negarlo? State diventando vittima delle sue romantiche assurdità. Che ne sanno loro dell'amore? Detesto ciò che sei diventato! A te non serve un marito, a te serve un coro greco. L'amore non può essere poco intelligente, non può essere stupido. Non ho mai smesso di amarti. Lo so. Ma Dio sa quanto compri chi le cose! Mi sono comportata male, vero? Non ho mai smesso di amare. Grazie a tutti.